dunque 1952 2012 dunque sono passati la bellezza di 60 anni dunque in 60 anni cosa ho combinato mamma mia quante cose che ho combinato allora la cosa più importante che ho fatto sono riuscita ad arrivare a 60 anni e che tutto sommato non è che sia una cosa da poi allora mi ha fatto piacere che mi avete festeggiato vi ringrazio tutti perché effettivamente è un bel è un bel ricordo e niente ci vediamo fra un altri dieci anni e mi raccomando se nel frattempo succede qualcosa avvisatemi auguri grazie a tutti grazie 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 grazie